C'è la volontà e l'assoluta necessità di giungere ad un accordo vincolante con uno dei soggetti interessati ad entrare in FIMER entro metà marzo, condizione indispensabile per evitare scenari peggiori. Lo dicono le organizzazioni sindacali, l'RSU, al termine di un incontro convocato dalla proprietà che si è tenuto proprio nella sede aziendale a Terronova Bracciolini, incontro che era stato programmato per illustrare lo stato di avanzamento delle trattative per individuare il possibile investitore. Tra i soggetti interessati è una realtà industriale che, secondo le peculiarità e la dimensione, secondo l'azienda potrebbe essere quello giusto. Per la prima volta, hanno aggiunto i sindacati, abbiamo riscontrato una disponibilità ad un confronto diretto anche su argomenti delicati rispetto all'entità dell'intervento economico-finanziario e delle prospettive future. Continueremo a vigilare, scrivono i sindacati, e manterremo la necessaria cautela in vista dei prossimi due incontri che si terranno l'11 marzo con la Regione Toscana e successivamente con il MISE, la cui data è in corso di definizione. L'assemblea sindacale in presenza davanti ai cancelli dello stabilimento sarà il giorno dell'incontro con la Regione Toscana alle 15.30.